Intanto una minuscola battuta sul festival che è partito oggi. Ma questo festival ha un proprio spazio e soprattutto serve secondo me per mettere in rete delle buone pratiche, cosa che in un mondo non omogeneo come quello delle montagne è sempre utile. Prima c'è stata l'inaugurazione del festival, l'è aperto l'inaugurazione con un intervento, a mio modo di vedere, illuminato. E' che trapelava il suo doppio ruolo, secondo me la sua doppia anima, quella di sindaco e quella di economista. Ha parlato di limiti e di sviluppo sostenibile o come alcuni preferiscono dire di alternativa allo sviluppo. Ci riesci un po' a chiarire questi argomenti in relazione alla montagna? Sì, è molto semplice. Allora, come è evidente, la montagna è il regno del limite. È limitato l'orizzonte, sono limitate le comunicazioni, ci sono i limiti del clima e simili. Il limite non deve essere visto come un vincolo assoluto, ma come un'opportunità. Gli ultimi 50 anni di sviluppo economico sono partiti dall'idea che i limiti non esistevano. Da questo punto di vista la montagna era superata, prima ancora come visione del mondo che provoca, che come luogo per attività economiche. In realtà, con l'idea di sviluppo sostenibile o di sviluppo che dura nel tempo e con la crisi economica attuale, si è visto che i limiti esistono. Allora, da questo punto di vista, la montagna è un ideale laboratorio per vedere le conseguenze delle visioni del mondo, delle tecnologie, delle modalità organizzative del sistema economico. Per questo servono, quindi per uno sviluppo che possa durare nel tempo, quindi che sia un sistema che sia resiliente e quindi che possa resistere agli socchi esogeni. la visione del mondo della montagna diventa appunto di nuovo importante. Lei prima ha usato un termine, resistenza e resilienza. Un attimo, ci spiega la differenza intanto? Allora, diciamo così che l'aspirazione di ognuno di noi, anche l'aspirazione della società in quanto tale, della comunità, è quella di fare qualcosa che duri nel tempo. Nessuno, insomma, si impegna più di tanto per qualcosa che domani mattina si finisse. Allora, per durare nel tempo ci sono due proprietà diverse. Una proprietà è la resistenza, cioè la capacità di una società di non spostarsi dal suo punto di equilibrio in conseguenza di eventi esogeni, di socchi esogeni. Mentre la resilienza è la capacità di quella società di recuperare il punto di equilibrio una volta che lo socchi è avvenuto e che ha spostato. Possiamo anche qui fare un esempio banale. L'arice è resistente perché non si sposta quando viene in temporale. l'erba è resiliente perché dopo essersi piegato ritorna alla situazione preesistente. Per durare effettivamente nel tempo serve un mix, un insieme, una combinazione attimale tra resistenza e resilienza. E questa serve per avere questo. Bisogna di nuovo avere una certa idea dei limiti. E bisogna avere, come dire, detto in linguaggio economico, puntare per la resistenza sull'economia di scala, quindi qualcosa più è grande, più è resistente, per la resilienza invece sull'economia di scopo di flessibilità che derivano dalla multifunzionalità, cioè dal fatto che un medesimo fattore produttivo serve per più prodotti. Ultima battuta. Un'analisi sulla resistenza e la resilienza della Vallarsa. La comunità della Vallarsa. Ma questa io credo che tutto sommato, allora, si potrebbe dire che nel bene e nel male la Vallarsa è quello che il Trentino avrebbe potuto essere. Nel bene perché chiaramente c'è un certo tipo di ambiente, un certo tipo di territorio e anche un certo tipo di rapporti sociali, nel male perché da un altro punto di vista la situazione economica non è ancora ideale. Allora, io penso che ci sia una elevata resilienza e una minor resistenza. Chiaramente siccome andiamo incontro a situazioni in cui li so che esogeni aumenteranno di intensità, avere resilienza è più importante che avere resistenza. Grazie mille. Prego. Grazie mille.